Cosa siamo? Siamo ingegneri per un giorno oggi. Stiamo disegnando ognuno la sua cosa, la sua idea personale. Come la vorreste costruire questa scuola? Un luogo sicuro in cui le persone sono professionali. Noi abbiamo scritto la scuola è sicura e la sicurezza è un diritto. La scuola è come una seconda casa. È sicura. Non siete folli, non vogliamo crolli. Colorata. Antisismica. La sicurezza è tutto ciò che racchiude la scuola, diciamo, è la prima cosa. Diciamo migliorare sia per noi che per tutti gli altri.